4 dicembre 1943. Negli Stati Uniti d'America calano le cifre della disoccupazione. Le molte assunzioni di operai necessarie per l'economia di guerra spingono il presidente Franklin Delano Roosevelt ad abrogare la Works Progress Administration. Termina una delle procedure adottate per arginare la Grande Depressione. La elezione di Roosevelt era ben...